...sullo sfondo il loro allenatore Michael Webster. Ecco, Barbara e Andrea sono entrambi di Milano, hanno lei 22-24 anni, sono diciassettesimi alla termine del... combinata tra danza obbligatoria e danza originale. Adesso ci presentano il loro pezzo, i loro quattro minuti di performance sulla musica di Danny Rogers, Massacro sulla decima strada. E partono bene Barbara e Andrea, avete sentito che applauso che è stato da parte della folla su quel loro sollevamento capriola. E un altro? Grazie a tutti. E' molto bello anche questo sollevamento. Si sembrano decisamente molto più convinti di quanto non fossero nelle danze obbligatorie e nel valser di ieri pomeriggio. Ancora un applauso strociante del pubblico presente qui al palazzo del ghiaccio di Elfidi. E' molto bello anche questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.